Allora, mi hanno detto di dire quello che voglio, quindi io innanzitutto faccio un grandissimo saluto a tutti i telespedatori di Crozzo Pizzo, se si può dire telespedatori o comunque che ci vedono da YouTube, con ovviamente un coro unico, Forza Inter ragazzi e sempre Forza Inter. Ciao Torre, è passato anche Torre, vabbè, Forza Inter ragazzi e Crozzo Pizzo, mitico.